L'arte in aiuto dell'orto botanico. L'idea è quella di un'asta di beneficenza per aiutare l'orto, o giardino dei semplici, come tutti lo chiamano a Firenze, a rinascere dopo i gravi danni della tromba d'aria del 19 settembre scorso, che ha colpito il patrimonio erborio e le strutture dell'orto, serre comprese. L'asta, pensata da Xenos Arte Contemporanea, si presenta con 45 opere di oltre 40 artisti, che hanno risposto all'appello per raccogliere i fondi per l'orto, sezione del Museo di Storia Naturale di Firenze. La scena artistica contemporanea fiorentina e più in generale toschiana ha risposto con grande entusiasmo a questa iniziativa, che vuole essere un'occasione per esprimere con i fatti solidarietà per un luogo così speciale di Firenze. L'orto botanico, nato come giardino di piante medicinale e semplici appunto, nel 1545 è fra gli orti più antichi del mondo. Per colpa della tromba d'aria di settembre, il giardino è stato chiuso al pubblico e riaprirà il primo aprile. Le opere dei 45 artisti saranno allestite e visibili dalle ore 10 del 13 dicembre presso la libreria Todomodo di Firenze. Dalle ore 20 sarà poi battuta l'asta, che seguirà l'ordine alfabetico degli artisti. Il pubblico interessato a inviare una proposta di acquisto lo potrà fare fino alle ore 24 del 12 dicembre, inviando una mail con i propri dati anagrafici e la proposta d'acquisto a info-xenoscontemporanea.com